È stato grazie alla tempestiva telefonata di un residente ai carabinieri che segnalava la presenza a sospetta di una persona nei pressi di un'abitazione in via dei Soster a permettere ai carabinieri di cogliere in flagranza il ladro. Sono riusciti a fermarlo, ma non senza difficoltà. Una pattuglia di Crocetta del Montello, arrivata sul posto dopo la segnalazione, ha notato qualcuno alzare e poi chiudere la tapparella della casa. I due militari si sono posizionati per bloccare le vie di fuga, riuscendo così a fermare un uomo, che alla vista del primo carabinieri ha subito gettato a terra una coperta, quella all'interno degli oggetti, scavalcando la recinzione e tentando di scappare, ma finendo per essere bloccato dal secondo militare. Così ne è nata una colluttazione. L'uomo è un 29enne di origine albanese, residente a Montebelluna, non nuovo d'episodi simili. I due carabinieri hanno rimediato diversi giorni di prognosi in ospedale. Nel corso della perquisizione i militari gli hanno trovato addosso un pugnale con relativo fodero lungo 24 centimetri ed un paio di torce. Una volta entrati nella casa per una successiva perquisizione, hanno trovato anche guanti e un cacciavite. L'uomo era riuscito a trafugare tre quadri, un vassoio ed un piccolo elettrodomestico. Gli oggetti sono stati restituiti al legittimo proprietario. L'arresto è stato convalidato. Il 29enne si trova ai domiciliari con le accuse di furto in abitazione aggravato, resistenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Per rafforzare la presenza dell'arma in zone già colpite nelle scorse settimane da furti e intrusioni in abitazione, è operativa da qualche giorno nella zona di Vittorio Veneto in supporto ai colleghi della territoriale una squadra di intervento operativo del IV Battaglione Carabinieri di Stanza Amestre. Una decina i militari che sono già impiegati nel weekend appena trascorso in controlli su strade e pattugliamenti nei comuni di Imiane, Faradissoligo e Moriago.